Buongiorno a tutti e benvenuti per l'inizio alla manifestazione del suo avevole, la prima esigliaia Berlora Cattolotti, numero 1 Stavone Antonino Apollona Bonaparte, numero 5 Chris Losh, numero 10 Caricara Crissima, numero 17 Mappadonaz, numero 10 Dallardo Lora, numero 22 Gatto Bessano, numero 24 Dallardo Lascano, numero 51 Modellino, numero 69 Tessillo Oroato numero 47 Dallardo Lascano, numero 28 Dallardo Lascano e numero 99 Dallardo Lascano Montero quindi mi piace della scoppa di Berlato Milano e l'allenatore Gattini di Sessioni Poi adesso vogliamo un altro applauso per la scoppa di Berlato Lascano, numero 3 Dussos Dallardo Lascano numero 22 numero 23 Dallardo Lascano, numero 9 Dallardo Larilla, numero 35 Dallardo Lascano, numero 14 Dallardo Lascano, numero 15 Dallardo Lascano, numero 16 Dallardo Lascano, numero 26 Iber sich Mariusz Avevacè Giore streamis numero 19 Il dirigente del testo avrà il capo, la notte del 15-7, la notte del 15-7, Andrea. Con questa prova adesso ho avuto un'attività di Pierini e Mazzagò. Diamo l'inizio alla partita e un buon conto, grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Vai fuori. Vai fuori dalle balle. Vai. Ha detto Mario. Sei contento? Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Vai, uno contro uno. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.